A partire da luglio 2020 non sarà più possibile utilizzare Spotify per i software da DJ. Prima di proseguire con il video ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Abbiamo parlato tempo fa di come sia possibile è anche interessante mixare con Spotify ovvero prendendo brani dalla enorme libreria di Spotify. Tutto questo non sarà presto più possibile perché Spotify non è più disponibile a partire da luglio 2020 su piattaforme come DJ Pro. DJ Pro è un software nato nel 2014 come una semplice applicazione per iPad, un modo per mettere un po' di musica anche così insomma soprattutto per divertimento. Nel tempo questo software si è molto evoluto integrando la possibilità di utilizzare Spotify come libreria per i brani e mano a mano diventando sempre più evoluto e anche compatibile con vari controller. Nel 2019 ha chiuso iTunes che era il principale store di musica digitale e di conseguenza molti si sono rivolti allo streaming per poter avere i propri brani e poterli utilizzare anche per le serate. È nato Beatport Link di cui abbiamo parlato e in molti si sono rivolti anche a DJ Pro come software per poter utilizzare i brani potenzialmente tutta la musica del mondo. Spotify purtroppo però non può più mantenere tutto questo, un po' per la sua situazione finanziaria complicata, un po' perché l'abbonamento base è di soli 10 euro al mese che possono sembrare tanti ma non bastano per coprire tutti i costi della ripartizione dei diritti. E anche nonostante ciò gli artisti si lamentano che Spotify non dà loro un granché nonostante i milioni di ascolti. Ecco che portando Spotify anche nelle serate vengono fuori tutta una serie di problemi legati alle licenze. C'è bisogno della licenza sia è oppure no? Quanto ripartisce Spotify se il brano viene suonato durante una serata al pubblico piuttosto che da un telefono nelle cuffie. E allora la scelta di Spotify è stata quella di tagliare la testa al toro ovvero di rinunciare a tutte le collaborazioni con app di terze parti. Cosa succede adesso? Beh DJ Pro è comunque un software che diventa sempre più interessante. L'algoritmo ha scelto di non rimanere a guardare. Infatti subito dopo che Spotify non sarà più disponibile lo saranno invece altre piattaforme. Soundcloud lo era già. Si sono aggiunte nel frattempo Bitport Link quindi con tutta la sua libreria di musica elettronica nelle sue varie forme e anche Tidal. Tidal è il servizio un po' più costoso di Spotify ma di contro fornisce musica di ottima qualità quantomeno audio. E sempre più Tidal sta cercando di prendere il mercato della musica in streaming per i DJ. Tidal si può collegare con le console e i controller Denon e quindi con il software Prime Go e adesso sta cercando di prendere coloro i quali si stavano rivolgendo a Spotify utilizzando DJ Pro. Per chi utilizza DJ Pro e vuole continuare a suonare in streaming la soluzione è quella di fare l'abbonamento a Tidal che è di base un po' più costoso ma può comunque dare l'accesso ad una grande quantità di musica un po' di tutti i generi. Staremo a vedere gli sviluppi di questa guerra dello streaming. Staremo a vedere anche cosa succederà a Spotify e in che modo porteranno avanti il loro predominio a livello quantomeno europeo della musica in streaming e come si svilupperanno le relazioni tra artisti, case escografiche, DJ e quant'altro. Nel frattempo ti direi di fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continui a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.